Quindi, anche per ripassarle, scriviamoci di nuovo quali sono in generale le formule di duplicazione. Formule duplicazione. Al momento scrivo soltanto quelle del seno e del coseno perché sono quelle che mi interessano. Allora, ricordiamo che il seno di 2α si può calcolare facendo due volte seno di α per coseno di α. Mentre, per il coseno di 2α, sicuramente sapete, se avete guardato questo tipo di formule, che esistono almeno tre modi per scrivere il coseno di 2α. Adesso io ne scriverò uno e scriverò anche gli altri e vi darò un suggerimento per ricordarvi come sono queste formule. Quindi, il modo in cui me lo ricordo io, il coseno di 2α, è che il coseno di 2α assomiglia molto alla formula fondamentale della goniometria in cui avete coseno di 2α più seno di 2α, però nel coseno di 2α non c'è il più, ma c'è il meno. Quindi cancelliamo il più perché, appunto, vi dicevo che è sbagliato. E invece devo andare a scrivere il meno. Quindi il coseno di 2α si può scrivere, manca ovviamente l'α qui, si può scrivere come coseno di 2α meno seno di 2α, che assomiglia molto alla formula fondamentale della goniometria, però c'è il meno che è una sottile ma fondamentale differenza. Ora, a partire da questa formula, vediamo come scrivere le altre due. Questa formula si può anche scrivere in due modi diversi, però io personalmente mi ricordo di più questo, perché è il più immediato. Perché sapete che, sempre usando la formula fondamentale della goniometria, questa espressione la posso scrivere in almeno due modi diversi. O lascio fermo il coseno di α e trasformo il seno di α, ma dalla formula fondamentale della goniometria sappiamo che seno di α è 1 meno cosen quadro di α. Quindi questa espressione diventa 2 cosen quadro α meno 1. D'altra parte potrei anche scrivere questa espressione modificando il coseno e lasciando fermo invece il seno. Quindi se modifico il coseno, devo scrivere al posto di cosen quadro α 1 meno sen quadro α meno sen quadro α. Ma questa espressione, c'è ancora uno spazietto piccolo e la scriviamo, la posso scrivere come 1 meno 2 sen quadro di α. Quindi vedete, il coseno di 2 α si può esprimere in almeno tre modi. O come cosen quadro α meno sen quadro α, o come 2 volte il cosen quadro di α meno 1, oppure come 1 meno 2 volte il sen quadro di α. Quindi questa prima formula, seconda formula e terza formula rappresentano tutte e tre la stessa cosa. Sono tutte e tre coseno di 2 α. Potete ricordarvele nell'ordine che più vi piace, però a me aiuta di più ricordarmelo in questo modo. Prima mi ricordo che è cosen quadro meno sen quadro, e poi mi ricavo le altre. Così che me ne devo ricordare soltanto una invece di tre. Bene, quindi queste sono le formule di applicazione e ve le ho date, diciamo così, per scontate. Cioè queste sono le formule e vi sto dicendo un po' come me le ricordo io. Per quanto riguarda invece la formula del seno di 2 α, diciamo c'è soltanto un modo di scriverlo, che è questo 2 senα cosenα, che questo, diciamo, si ricorda e basta. Se vi interessa un video in cui vediamo perché queste formule sono vere, questo potete scriverlo nei commenti e poi potrei fare un video proprio a parte in cui vi spiego come si ricavano queste formule. Però adesso concentriamoci più su come si usano e come potersene ricordare.